Preso sull'autostrada A2 direzione sud, un corriere della droga trasportava circa 8 kg di sostanze stupefacente, quasi 6 kg di hashish e 2 di cocaina nascossi in un doppio fondo costruito sotto il sedile posteriore di una Mercedes. Lo ha scoperto la polizia stradale di Eboli nel corso di un controllo sulla A2 direzione sud che ha arrestato un cittadino albanese residente in Sicilia. Gli agenti hanno scoperto l'ingente carico di droga suddiviso in confezioni di cellofan nel doppio fondo, la cui realizzazione fa pensare che l'auto fosse stata modificata proprio per il trasporto stabile di droga e che l'uomo fosse un corriere della droga per conto probabilmente di terze persone. Convalidato l'arresto l'uomo è stato trasferito in carcere mentre droga e auto sono state sequestrate. Un'operazione questa molto importante messa a segno dalla polizia stradale che dimostra ancora una volta l'incessante impegno nel combattere il traffico di droga e consegnare alla giustizia i trafficanti e i pusher.